Momenti di paura questa mattina al quartiere Angeli dove una donna aggredita da alcuni cani in randaggio è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. La donna pare stesse recandosi al cimitero Angeli quando sarebbe stata appunto affrontata da alcuni cani che si trovavano nella zona. L'episodio tuttavia è ancora da chiarire, pare infatti, che alcune persone hanno assistito alla scena facendo intervenire un'ambulanza per soccorrere la malcapitata che sarebbe rimasta ferita anche per la caduta rovinosa a terra. Un episodio che ripropone con forza il problema del randaggismo in città dopo un periodo di calma. Episodi del genere non venivano infatti segnalati da diverso tempo anche per il lodevole lavoro svolto in città dalle associazioni di volontariato che si occupano costantemente della cura e dell'affidamento dei cani di strada molti dei quali vengono sterilizzati e microcippati. Un episodio, quello avvenuto agli Angeli, si spera dunque isolato nella speranza che il sistema dell'adozione possa essere incentivato su tutto il territorio. Grazie.